Ciao a tutti, allora eccoci a parlare dei nostri prodotti più odiati in quanto adesso vi devo dire che ha vinto il giveaway con il regalo, il balsamo che ho fatto io il balsamo all'ester 4 totalmente ecobiologico e naturale e alla fine del video ve lo dirò adesso però vi voglio parlare dei prodotti che voi mi avete scritto nei commenti che avete più odiato vi metto il link nei box informazioni di modo che possiate voi stessi vedere perché secondo me è stata una grandissima cosa mettere questi commenti così perché si fa informazione molte persone possono capire che i prodotti che usano non sono buoni eccetera quindi la classifica per quanto riguarda i prodotti più odiati quelli che hanno un inch veramente schifoso la robaccia insomma che ci rifilano al suo mercato e quant'altro e ci fanno spendere tanti soldi inutili allora dal decimo posto al primo posto proprio come una top ten una classifica vedrete le immagini perché di questi prodotti io non ho questi prodotti fortunatamente quindi al decimo posto la scera di cupra scera di cupra è una crema odiosa che io ho provato chi di voi l'ha provata perché l'avete scritto molto nei commenti è una crema untuosa comedogenica rende la pelle grassa con i punti neri non idrata questa crema ragazze basta leggere i primi tre ingredienti acqua, paraffinum, liquidum, petrolatum e tanto basta per dire che è una crema davvero schifosa a base di paraffina e di petrolati oli minerali che non idratano creano un film occlusivo sulla pelle non la lasciano respirare creano i comedoni e quant'altro insomma ragazze lo sapete che il primo ingrediente che dobbiamo evitare nei nostri cosmetici è la paraffina liquida è il petrolato con gli oli minerali oltre ad essere inquinanti sono ingredienti scadenti per la nostra pelle anche cancerogene ok poi al nono posto quindi man mano sempre prodotti sempre più sempre peggiori che le più persone di voi hanno scritto che si sono trovate malissime e che hanno odiato profondamente al nono posto le tre fasi della clinique le tre fasi della clinique io non le ho provate però mi sono cercata gli inci in effetti c'è un liquid facial soap mild che è in effetti un detergente per il viso poi c'è una lozione credo che debba avere una funzione di tonico e poi qualcosa di idratante suppongo allora sono rimasta sbalordita questi inci sono davvero schifosi io non so come possano costare questi prodotti veramente caro per quello che contengono il primo quindi questo sapone per il viso questo detergente contiene acqua sless quindi sodium laureate sulfate e sodium cloride molto molto aggressivo in quanto ve lo sapete come abbiamo detto dal video degli sciampi e dei detergenti il sale sodium cloride non deve mai stare sotto il sodium laureate sulfate in quanto il prodotto è troppo aggressivo ci dovrebbe essere prima una betaina o un tensiattivo che possa compensare l'aggressività dello sless oltre al fatto che poi non vi dico è inutile tutti i PEG le sostanze chimiche che rilasciano formaldehyde e quant'altro che contiene questo prodotto poi c'è la lotion quella là per tonico ragazzi veramente cioè veramente orribile primo ingrediente è alcol denaturato cioè l'alcol è contenuto in quantità maggiore dell'acqua che è subito dopo nell'inci quindi praticamente è come se voi prendeste l'alcol e ve lo metteste in faccia l'alcol è un ingrediente che vi va a seccare la pelle veramente orribile orribile davvero un tonico prevalentemente con alcol ma poi l'ultimo invece c'è questa qua una lozione idratante penso debba essere che comunque non mi soffermo più di tanto acqua e mineral oil quindi paraffina liquida che sappiamo che cosa ci fa la pelle non ci tratta nulla un ingrediente scadente io non so quanto costi questa crema ma rendetevi conto che è una vera schifezza e lo sapete perché molti di voi me l'avete scritto poi andando oltre all'ottavo posto c'è la somatoline somatoline è la crema che quindi sappiamo anticellulite tutti i prodotti che ha fatto per la pancia per i fianchi e quant'altro io la somatoline non mi soffermo più di tanto perché la somatoline non è un cosmetico bensì è un farmaco è un farmaco quindi io la somatoline non l'ho mai usata e mai la userei sulla mia pelle al di là del fatto degli ingredienti che contiene proprio perché è un farmaco e io penso che cioè io sono del parere vabbè è una cosa personale io i farmaci li uso pochissimo anche quando ho la febbre sono malata cioè io ho la febbre a 40 e non prendo farmaci quindi figuriamoci se userei un farmaco per curare la cellulite che poi non si sa se ha effetto molte di voi hanno detto che non hanno trovato beneficio oltretutto la somatoline è un prodotto che può causare problemi alla tiroide insomma informatevi soprattutto chi ha problemi di tiroide assolutamente non può usare può creare dei scompensi comunque è una cosa che dovete chiedere al vostro medico perché vi ripeto la somatoline è un farmaco ok io preferisco i rimedi naturali lo sapete e che sono anche più efficaci ok dopo la somatoline al settimo posto quindi salendo sempre di più quindi prodotti sempre più odiati al settimo posto ci sono molte di voi mi hanno detto i prodotti finti naturali in pratica una ragazza ma molte altre mi sono segnata questo qua need rose 89 mi ha scritto una cosa che non tolera in assoluto sono le marche che si spacciano per naturali mentre invece non lo sono affatto ingannano i loro clienti lash bottega verde eccetera preferisco che non dichiara niente di naturale fra prodotti chimici al 100% hai ragione neanche io le odio quei negozi dove entriamo ed è tutto verde fiori natura ecco tipo la bottega verde per famiglia tutti questi prodotti che poi di verde non hanno proprio nulla i verroché just che poi ha dei prezzi assurdi si fingono naturali ma non sono per niente gli inchi non sono assolutamente verdi contengono sia sostanze inquinanti sia sostanze dannose per la pelle e poi anche avon e lo volats lash lo sapete benissimo prodotti che hanno contengono sia siliconi che petrolati e contengono anche sostanze chimiche in particolare la lash la lash della lash molte molte cose veramente non sono per niente naturali i burri i oli solidi queste cose qua sono anche potrebbero anche essere naturali ma veramente costano troppo per quanto valgono in particolare assolutamente da evitare ve l'ho sempre detto della lash le creme creme che sono emulsionate come se fossero saponi quindi come si faceva tanto tempo fa con la trietanolamine e sono creme che sono basiche quindi creano molti molti problemi alla vostra pelle che invece ha bisogno di qualcosa di un pH acido e in particolare evitare oltre alle creme che contengono sostanze non naturali non approvate da biodizionario anche gli sciampi in particolare sciampi solidi tutti i sciampi della lash sono a base di sodium lauryl sulfate quindi che è un intensitivo molto molto aggressivo assolutamente attacco anche qui il commento di mamma ma due giorni fa allora ci ha scritto sciampo e semi di lino dei provenzali non si lava via neanche se ti uccidi ed è pieno di robacce è vero lo sciampo e semi di lino io l'ho anche provato e ve l'ho detto in più di un video è uno sciampo molto molto aggressivo a base a base attivi derivati dal petrolio comunque chimici e molto molto aggressivi ma con la cocamide con veramente molto molto aggressivo che a me ha causato un prurito e un'irritazione veramente notevole alla cute veramente ve lo sconsiglio totalmente provenzali dei provenzali mentre gli oli alcuni sono puri e alcuni prodotti come anche per le labbra idratanti per le labbra sono buoni evitate assolutamente i detergenti quindi sciampi bagnoschiumi bassamo queste cose qua ok al sesto posto invece abbiamo lo struccante bifasico della magnolia fior di magnolia una ragazza ci dice nonostante tutte le doti lodi che abbia avuto su youtube e perché appunto dice che molte ragazze ne parlano bene ragazzi ho guardato l'inci veramente sono rimasta veramente schifata acqua ciclopentaxiloxane e qua mi fermo mi posso fermare non c'è bisogno che leggo quello di dopo perché è uno struccante che è a base di acqua e silicone non altro acqua e silicone cioè voi vi lavate la faccia con il silicone e quindi che rimane sulla vostra pelle cioè veramente è una roba assurda vi trovate la faccia impiastricciata di silicone davvero veramente non lo so è un prodotto scadentissimo veramente scadentissimo quindi dopo questo qua abbiamo al quinto posto qua ci mettiamo assieme tutte le creme alla paraffina molti di voi hanno detto io odio tutte le creme alla paraffina e silicone nevia glisolid la glisolid è una crema così come si dice il contrario di disidratante la glisolid è una crema disidratante cioè che te la metti e ti disidrati e sono tutte così le creme alla paraffina e a silicone sono creme che non idratano un tubo ma loro diciamo chi le crea queste creme pensa che noi siamo scemi che pensiamo di essere idratati quando ci mettiamo queste creme così siliconiche che ci creano questo film di plastica sulla pelle poi quando smettete di usare questa crema in effetti vi accorgete che la vostra pelle improvvisamente è secca improvvisamente ha tutti i problemi di questo mondo perché? perché la crema che vi avete usato per un mese due mesi per un anno non vi ha idratato proprio niente e appunto c'è anche sono le creme della DAB le creme della Vichy la Vichy che è una marca che fa creme con siliconi a tutta forza l'aliocrema che è una crema a base di paraffina di cui il profumo però veramente è molto molto piacevole però la crema fa veramente schifo e sono creme untuose sono creme che creano un'occlusione sulla pelle veramente odiose che chi ha provato l'Eco Bio dopo ha capito veramente cosa cosa è l'idratazione cosa è una crema cosa è il piacere di spalmarsi una crema e di avere una pelle finalmente diatrata idratata e senza problemi e qua ci viene incontro una di voi che scrive lei si chiama Verzognola che scrive che è brutto scoprire che anche la Vichy pagata 25 euro ha siliconi mannaggia questo è bellissimo perché giustamente lei dice c'è anche la Vichy che lo paga da 25 euro se volessimo giudicare la qualità di un prodotto dal prezzo capiamo che non è possibile perché una crema che costa 25 euro è a base di silicone quindi che non idratano niente è una crema idratante che non idrata niente veramente è una grossa grossa filatura e purtroppo è così poi al quarto posto abbiamo quindi sempre più odiati i cristalli liquidi ragazze qua potrei aprire un capitolo ma non lo faccio perché veramente altrimenti vi annoierei perché ve lo dico sempre i cristalli liquidi alias semi di lino per capelli che non contengono neanche l'ombra dei semi di lino alias siliconi che cosa sono i cristalli liquidi sono siliconi silicone puro che vi mettete sui capelli che vi fa sembrare capelli non crespi senza doppie punte è come come una una maschera che metteste i vostri capelli e man mano i vostri capelli sotto sono sempre più secchi sempre più disidratati sempre più crespi sempre più praticamente quello che voi vorreste vorreste combattere quindi in effetti io quando usavo i cristalli liquidi sui capelli quindi prima di asciugarli pensavo di fare bene i miei capelli invece non solo non gli stavo facendo un tubo perché non hanno proprietà curative e silicone non solo stavo inquinando l'ambiente non solo stavo spendendo soldi inutili ma stavo anche facendo del male ai miei capelli perché i miei capelli poi sono diventati in effetti era come se io avessi la paglia non potevo pensare di fare uno shampoo anche con il balsamo e restare i capelli senza mettere silicone perché i miei capelli erano inguardabili intoccabili ed erano veramente la paglia cosa che adesso invece non usando i silicone ma usando prodotti alternativi che voi se vedete i miei video lo sapete oli vegetali e prodotti realmente idratanti ricostituenti e quant'altro posso anche asciugare i capelli senza mettere nulla sui capelli non li ho crespi non li ho non ho le doppie punte non li ho quindi veramente una grossa fregatura un odio profondo anche io molto molto profondo per i cristalli liquidi quelli anche della kerastase che costano pure abbastanza quindi veramente odiosi e chi passa l'ecobio la prima cosa che fa è riciclare i cristalli liquidi e notare che i mobili vengono molto molto lucidi con l'uso dei siliconi ok poi poi al terzo posto un prodotto che è incredibile l'odio che avete verso questo prodotto ci sono arrivati proprio centinaia di commenti contro questo prodotto che io non ho mai provato sono andata a leggere l'inci e mi è bastato uno sguardo di un secondo per capire che questo prodotto fa veramente schifo quindi avete tutta la mia la mia approvazione e tutto il mio diciamo supporto lo shampoo herbalessence una roba rucinante tanti e tanti di voi hanno detto mi faceva venire la forfora una in particolare cecca già da vats ci ha scritto lo shampoo herbalessence odio le prese per il cu in tutta sincerità fanno vedere che è tutto bello naturale ma di che tutto petrolo e schifezze varie ti fa pure venire la forfora e detestato tu animali è verissimo questo shampoo fa venire la forfora perché è troppo aggressivo l'inci è a base di ammonium dopo l'acqua ammonium lauretusulfate ammonium lauretusulfate aggressivo un intensativo da evitare ve l'ho detto anche nel video sugli shampoo e dopo sodium cloride quindi il sale quindi uno shampoo davvero davvero aggressivo c'è anche un po' di silicone di dimeticone c'è anche la coca midemea per dare ancora un altro po' di prurito ci sono anche le sostanze che rilasciano formaldeide mi pare giusto e c'è anche un po' di paraffina per accontentare gli amanti del petrolio e dei conservanti davvero schifosi quindi ragazzi è veramente una roba assurda herbalessence e poi assieme a questo ci mettiamo anche tutti gli altri shampoo da suo mercato pantene fructis l'oreal sansil kelviv biopoint shampoo più o meno costosi per vari tipi di capelli per lisciare per farli lucidi per capelli tinti tutti la stessa schifezza e poi al secondo posto abbiamo un prodotto che anche io ho odiato alla follia il labello labello a base di ceramico cristallina che è petrolato quindi ci siamo messi il petrolato sulle labbra abbiamo avuto i punti neri abbiamo avuto le labbra non idratate sempre più disidratate sempre più secche una roba schifosa se avete provato un burro cacao davvero a base di burro di cacao o di burro di carité o di oli vegetali se ve lo siete fatti voi con il video che vi ho fatto su come fare un burro cacao in casa o se l'avete comprato di una qualsiasi marca eco bio avete capito che significa avere le labbra idratate basta metterlo una volta al giorno e le labbra sono lisce morbide e idratate e poi una cosa semplicissima a farsi un burro cacao super economica e semplice quindi davvero assolutamente fatevelo voi assolutamente una roba pazzesca il labbello una ragazza si chiama Briseide 9 ci dice io ho odiato il labbello ma purtroppo non l'ho capito subito più lo usavo più avevo le labbra secche e con pellicine quasi crea dipendenza ma nel senso negativo adesso so il motivo e da quando uso burro cacao bio non mi serve più impastricciarmi le labbra 100 volte al giorno ma due o tre passate sono sufficienti per avere una bocca morbida e liscia e hai ragione perché questo quando ci mettiamo la paraffina petrolato quindi il labbello sulle labbra si crea una patina che dura poco appena va via la pelle sotto è sempre più secca a noi di nuovo a mettere il labbello fino ad insomma uscire pazzi quindi ok dopo il labbello al primo posto il nostro odiatissimo odiato alla follia olio johnson a base di che cosa da che cosa è fatto l'olio johnson da paraffina paraffina liquida non c'è altro c'è paraffina liquida quindi petrolato ragazze come ci dice fimo e fantasy fantasy capiamo subito che cosa voglio dire è un commento che sintetizza tutto un'ultima cosa sull'olio johnson dopo averlo usato per un lungo periodo di tempo sono andata dalla dermatologa mi ha detto ma che cosa hai combinato è la pelle secchissima era davvero secca che schifo tipo squamata l'olio johnson non idrata un tubo e io non posso veramente non posso semplificare tutto quello che ho da dire sull'olio johnson voglio dedicare un video a parte a questo prodotto quindi farò un altro video dedicato solo a lui il malefico olio johnson ok quindi a primo posto l'olio johnson in cui vi parlerò la prossima volta e alcuni altri commenti sono stati molto carini tiziana 977 ci dice fondotinti liquidi della lancome e compagnia bella la pelle dopo poche ore era un tripudio di grasso e sepo in superficie da anni il trucco minerale mi sta dando immense gioie hai ragione anche io adoro il trucco minerale i trucchi i fondotinti liquidi non li usano non mi usano occludono la pelle fanno venire i punti neri e quant'altro quindi vive il minerale poi iroberri ci dice il secondo è lo smalto shine tech o shine tech di debora l'ho preso e poi ho provato e durava ma per stizio ho voluto guardare l'inci primo ingrediente è forma alleide mio marito è tecnico di laboratorio la usa sotto k con la maschera perché è pericolosa ed è cancerogena non ci credeva che potesse esserci finché glielo ho fatto leggere ora è lui che mi appoggia per usare il naturale in tutto ragione propria chi meglio di te te lo può dire anche io sono un tecnico di laboratorio la formaldeide è cancerogena e purtroppo lo smalto ecobio non esiste molti smalti sono a base di formaldeide lo smalto non si dovrebbe proprio usare anche perché inquina l'ambiente e bla 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 purtroppo quando uscirà lo smalto ecobio lo saprete sicuramente ve lo farò sapere sicuramente allora poi un altro commento carino è jacka già da vats che ci dice ah è sempre lei ho letto anche un altro commento di questa ragazza che ci dice e così vi saluto con questo commento vi saluto quello che odio maggiormente è l'olio johnson baby pensare che è fatto per i bambini ed è petrolio e schifezze pure fa davvero pena altro che idrata 10 volte di più fa schifo 100 volte di più benissimo con questa frase vi saluto e vi lascio all'estrazione mi raccomando andate a vedere tutti i commenti quando non avete niente da fare quando volete comprare un prodotto e là è veramente una fonte preziosa di informazione leggere tutti i commenti delle ragazze migliari di commenti su prodotti più odiati vi metto il link nei box informazione se volete se vi è piaciuto questo video mi fa piacere se dite la vostra in un commento mi fa piacere se volete anche fare un video di risposta volete fare una vostra lista volete parlare di qualche prodotto che ho citato io per dirmi anche le vostre esperienze negative o di un altro di cui non ho parlato anche mi fa tanto piacere in modo che ci aiutiamo a diffondere a fare informazione su questi prodotti che fanno davvero schifo e veramente mi fa piacere se mi aiutate in questa cosa perché anche su youtube ho visto molta molta disinformazione quindi vi ringrazio e vi lascio all'estrazione grazie per aver partecipato al giveaway e ci vediamo alla prossima ciao un bacione i like to tie up my feet to the rhythm to the rhythm why don't you dance with me to the rhythm to the rhythm with me we fell in love on a friday night on a rainy friday night and the rain hit the window